un bel saluto a tutti a tutte voi amici e amiche carissime del canale il video di oggi è un video insegnamento su come creare un feticcio cioè un lavoro magico di abbondanza e di fortuna questo lavoro è un lavoro che sembra come gli altri semplice con pochi elementi ma che in realtà ha un potere veramente forte nella centrare nella vostra vita la fortuna l'abbondanza il lavoro il denaro infatti come vedete io ho già preparato una bellissima candela verde perché questo è il colore lo dice anche un romanzo il colore dei soldi o comunque il verde è ben associato insieme magari al giallo o all'oro in magia a situazioni di denaro di abbondanza di prosperità di lavoro certamente come vi dico sempre se per voi diventa difficile reperire il colore verde allora andrete ad usare una candela bianca quindi lavorerete con il bianco con il colore definito universale e il lavoro andrà bene lo stesso ma se riuscite davvero a trovare il verde la cosa diventa ancora più forte più accentrata e avrete ancora più successo in questo lavoro poi il resto cosa serve molto semplice un po di miele veramente pochino ne basta molto poco e della noce moscata esatto noce moscata in polvere come tutte le sostanze vegetali la noce moscata vanta delle proprietà altamente magiche esoteriche e quindi la noce moscata attrae come fanno più o meno anche altri tipi di noci attrae e lavora molto bene per quello che è l'abbondanza per quello che è il denaro per quello che è il cash quindi userete noce moscata se l'avete nel formato appunto in polvere è già pronta ovviamente se avete anche quelle noci moscate che si grattano ne fate un po' di polverina e la usate logicamente così va benissimo lo stesso è chiaro che noi la sostanza la usiamo sempre quindi noce moscata miele una candela verde per scrivere e per energizzare la vostra candela il vostro feticio un lapis oppure qualsiasi altro strumento tipo un ago tipo una penna che serva comunque per scrivere e attivare la nostra candela benissimo come l'attiviamo l'attiviamo intanto scrivendo dallo stoppino eccolo qui dallo stoppino fino alla base cioè dalla parte astrale perché lo stoppino rappresenta il fuoco il piano eterico astrale e la base rappresenta il piano materico allora noi per attirare nella nostra vita un lavoro nuovo per esempio un ottimo impiego per attirare denaro per attirare clientela per attirare abbondanza in tutti i sensi per attirare fortuna usiamo incidere da lo stoppino verso la base e cosa andiamo a scrivere andiamo a scrivere intanto i vostri dati nome cognome e data di nascita è con molta calma vostro nome vostro cognome vostra data di nascita poi girando un attimo la candela scriverete parole in linea con questo lavoro per esempio fortuna abbondanza denaro lavoro eccetera quindi queste parole chiave che servono a richiamare questa poderosa energia di prosperità anche la parola in effetti prosperità quindi fortuna abbondanza denaro lavoro prosperità andate a scrivere tutte le parole che per voi richiamano il denaro l'abbondanza ciò che vi serve in questo momento è che sia un lavoro che sia un incremento della clientela che sia la fortuna al gioco faccio un altro esempio che ci sta molto bene in questo esempio qui e quindi andate a mentalizzare e a scrivere per esempio fortuna lavoro denaro oppure abbondanza fortuna gioco per fare un altro esempio oppure prosperità materiale denaro abbondanza e via discorrendo una volta che voi avete eh inciso la vostra candela verde con i vostri dati e con ovviamente le parole di potere collegate tutte quante ovviamente al denaro alla fortuna l'abbondanza alla prosperità eccetera cosa fate prendete un pochino di miele proprio ne basta poco è un pochino di miele e vestite la candela cospargendola di miele in tutto il suo fusto quindi andate poi a spalmare questo miele a lucidare eh ma si dice più che altro vestire si dice to dress the candle quindi vestire la candela vestirla con cosa in questo caso la vestiamo con la potenza del miele è una grande potenza una grande risorsa esoterica come in altri casi le candele chiaramente si vestono con oli consacrati con oli di denaro con oli di fortuna con oli d'amore e via potremmo continuare all'infinito perché eh i i diciamo gli oggetti di natura magica eh i supporti magici sono veramente tanti il miele è un grandissimo attrattore sia in amore sia nella salute nel benessere sia nel denaro sia nell'abbondanza e nella fortuna bene una volta che è tutta cosparsa di miele voi cosa fate l'appoggiate un attimino e poi cospargete la candela con abbondante noce moscata eccola qua la andiamo ad aprire e ce la spolveriamo sopra poi se cade come dico sempre nel piattino va benissimo non ci sono problemi andate a sfregare la noce moscata lungo tutto il fusto della vostra candela incantata del vostro feticcio un feticcio molto forte molto buono molto testato funziona veramente bene quindi vi consiglio di farlo vi consiglio di farlo vi consiglio anche di fare scorta di candele verdi in questo caso se ne avete l'opportunità non fatevi sfuggire l'occasione perché potete farlo quante volte volete quindi potete farlo una volta e poi attendere i risultati che sono anche molto rapidi potete farlo per tre giorni sette giorni di seguito potete farlo una volta ogni dieci giorni questo potete farlo anche per più giorni di fila secondo la vostra necessità è secondo il vostro bisogno secondo ciò che avete in mente perciò secondo quanto volete attrarre ecco la candela adesso rivestita prima col miele adesso con tutta questa polverina così aromatica io dico sempre che adoro da morire le spezie deliziosamente profumata è pronta è pronta per lavorare per voi e quindi noi la fermiamo scaldando la base quindi piattino di lavoro o piatto di lavoro o se volete anche un porta candela e potete usare anche un porta candela la attaccate e la accendete mentalizzando mentalizzando molto bene mi raccomando l'obiettivo quello che volete accentrare nella vostra vita quello che volete attirare se è un lavoro mentalizzate fortemente il lavoro che arriva bene facilmente che arriva il lavoro che vi piace a voi che arriva un lavoro che vi soddisfi a livello economico se per il gioco mentalizzate vedete voi stessi mentre scoprite che avete vinto se per portare clientela visualizzate clienti persone che comprano che pagano i vostri prodotti o i vostri servizi se avete bisogno di una spinta generale in una in una area della vostra vita che è quella del denaro che quella delle finanze che sta bloccata visualizzate che le cose vanno per il verso giusto visualizzatevi che pagate per esempio i conti o per esempio i debiti visualizzatevi che contate i soldi nel portafoglio e riuscite a pagare tranquillamente la vostra mente sia il vostro schermo mentale quindi potete adattare questo importante feticcio per tantissime finalità direi proprio di sì e lasciate andare tranquillamente la candela i residui che rimarranno potete benissimo smaltirli in un pochino di natura in un vaso in una pianta come diciamo sempre sotto un albero sotto una pianta di fiori sotto una pianta di altra natura nel prato in un pratticello in un orto dove c'è terra dove c'è vegetazione anche pochina ma dove c'è vegetazione in questo caso non andiamo a mettere i residui nella spazzatura perché è un'energia che deve tornare a ricircolare quindi in un modo pulito in un modo molto particolare in un modo che comunque non finisca nello scarico quando noi buttiamo via qualcosa nello scarico c'è sempre un motivo o nella spazzatura in questo caso l'abbondanza si sposa male con i rifiuti o il cassonetto dei rifiuti perciò fate questo lavoro provatelo fatelo quando volete perché non ci sono giorni lune né orari perciò potete farlo quando voi volete quando a voi va quando vi sentite veramente a posto vi sentite carichi lo fate e lo lasciate andare potete farlo come ho detto prima anche più giorni di seguito quindi come avere un una botta di energia che parte più volte più volte questo lo vedrete voi in base alla vostra decisione personale in base alla vostra situazione perché ci sono situazioni più bloccate e situazioni magari un pochino meno problematiche io ovviamente vi consiglio di ripetere un pochettino i lavori quando la situazione è piuttosto problematica o bloccata benissimo con questo lavoro con il lavoro della candela con la noce moscata la candela verde dell'abbondanza della prosperità del denaro e del lavoro io vi faccio i miei migliori auguri quindi buon lavoro vi saluto per il momento vi ringrazio perché mi seguite sempre e sono molto contenta di questo e vi aspetto al prossimo video